io ce l'ho fatto? chiedi una Cathedral io ce l'ho fatto la mia roba ci cia? più bene? ok? io ce l'ho fatto come ho fatto? ah ma non è l'ultimazione non favo la tutta mi fa me li fari subito ma mi fa no vabbè c'è tutto buono ahahahah sono io sono i cor Roux Grazie a tutti. Grazie a tutti.